Le cessioni avvenivano all'interno delle mura domestiche in un appartamento nel quartiere di San Marco per sfuggire così alle restrizioni del decreto anti-covid-19 ma un 52enne a retino è stato comunque scoperto ed arrestato dalle forze dell'ordine. Ai tempi del coronavirus infatti anche pusher devono adeguarsi poche le persone in strada e soprattutto molti controlli. Sempre più spesso così dalle piazze le cessioni si spostano dentro alle abitazioni come in questo caso. Sono stati gli uomini della squadra mobile della Questura di Arezzo impegnati nei servizi di pattugliamento a notare un insolito via vai in un'abitazione nel quartiere di San Marco dove abita un 52enne italiano con precedenti specifici. Da qui il blitz e la perquisizione all'interno della casa dove i poliziotti hanno trovato due involucri di cocaina per un peso totale di circa 12 grammi, un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento delle dosi. Per l'uomo è così scattato l'arresto. La sostanza stupefacente ovviamente è stata sequestrata.